Anche UNI al congresso di LAPET e ASSO Professioni, che ruolo ha avuto e ha UNI nella normazione europea? UNI è certamente una componente importante del CEN, che è il comitato di normazione europea, ha anche attualmente un presidente del CEN che è di estrazione UNI ed è un italiano, l'ingegner Calzolari. Abbiamo una buona posizione anche a livello ISO, quindi a livello mondo. Il nostro direttore generale Ruggero Lenzi è membro del board ristretto di ISO e quindi siamo posizionati abbastanza bene da questo punto di vista. Certamente collaboriamo con la commissione, che poi sono praticamente quelli che emettono le direttive, però la normazione tecnica volontaria è a servizio dei cittadini e delle attività professionali anche e quindi svolgiamo un ruolo significativo e di pubblica utilità. Un giudizio finale su questo congresso? Sono stato molto contento, credo che ci sono due associazioni importanti, una che celebra i propri 40 anni, l'altra i propri 20 anni di attività e c'è stata sempre molto positiva collaborazione con UNI, io sono presidente da tre anni quindi, ma nella storia ho visto che c'è stata sempre una buona collaborazione sia per la determinazione della legge 4 del 2013 e sia per le attività normative, i tributaristi hanno una norma significativa da tanti anni. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!